Ciao, mi è stata segnalata questa canzone chimica di Tonea Piaga e Rettore di quest'ultimo Sanremo come canzone divertente, eventualmente divertente per il basso. Quindi sono andato a prenderla, adesso andiamo a vederla velocemente. Allora, utilizziamo di nuovo questa risorsa che è il sito www.cordify.net in cui noi andiamo a cercare delle canzoni, lui utilizza l'audio di YouTube e poi va a mettermi, a trovarmi gli accordi della canzone di base, anche con qualche errorino ogni tanto e me la mette sul tempo, quindi ho un quadratino che va a tempo sui quattro quarti in questo caso. Andiamo a vedere, allora, l'introduzione non c'è il basso, c'è un synth molto carino che noi possiamo andare però a recuperare con il basso. Magari non prendendo proprio tutte le note, ma le ultime tre, Do, Mi bemolle e Fa, ad esempio. Molto divertente. L'originale metterebbe anche il fa basso in battere, quindi rimarrebbe anziché un, 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 sarebbe però secondo me rende un pochettino meno, prova ad ascoltarlo. Comunque è anche divertentissimo questo, tecnicamente però è un po' più difficile e secondo me rende un pochettino meno. Poi andiamo al ritornello, il ritornello è questa parte qua, parte Fa, qua non c'è nulla ma secondo me è un basso di La bemolle, te lo faccio sentire. Quindi basso di La bemolle, in questa battuta qua, Si bemolle e Re bemolle. Anche se qua non lo fanno, secondo me è carino, sul secondo e sul quarto accordo anticipare leggermente. Ti faccio vedere come mi viene da suonarlo. Una questione di... Quindi anziché fare un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro, come tra l'altro è lì e quindi ci starebbe anche bene, mi viene da anticiparlo un pochettino il secondo e il quarto, secondo me gli dà un po' di spinta. poi torna sull'introduzione, quindi strofa sempre qua dopo va su un ritornello di nuovo doppio forse, si è più lungo dell'altro lo prendo già un po' prima eccetera eccetera dopo va su una strofa un po' diversa perché appoggia gli accordi del ritornello e qua ci sono diversi momenti ti faccio sentire come suono io i primi lunghi e poi vado a raddoppiare dandogli un po' di spinta per lanciare il ritornello e non c'è iodio pure zinco è solo marmo bianco muscoli bollenti e non c'è odio che non vinco è solo cardio conta spingere i suoi tempi e non mi servono a Ferrari se non pari come fate affari sferti ma non contano gli affari siamo chiari se compari i coefficienti è una questione di molto bene poi qua fa finta di lanciare il ritornello in realtà va in uno special molto carino ricorda un po' le canzoni anni 50 con questi giri classici anche qua andiamo a mettere le toniche e magari qualche nota di passaggio e poi va a lanciare il ritornello quindi qua cosa ho fatto lui passava ad esempio dal fa al re minore fa mi re io sono andato a mettere quello poi andiamo a un sol minore sono sul re ho messo ad esempio un la di passaggio per scendere in maniera un po' più lieve poi per andare a do la si bemolle do e poi per ritornare al fa re mi fa quindi alcune note di passaggio per condire dopo va su un ritornello finale l'ultima parte in questa parte qua quel che viene da suonare a me è dargli un po' più di dance e stare dritto sugli accordi quindi qua cambiarli sul battere ti faccio sentire come mi suono io qua c'è un doppio ritornello finale almeno e qua va a continuare fino alla fine quindi niente anche l'invito è che anche se il brano non ha grandi giri di basso perché nell'arrangiamento come è stato pensato non è stato pensato il basso comunque noi possiamo andarlo a prendere anche grazie a questo chordify che ci aiuta con gli accordi tirare giù una nostra versione divertirci e suonare soprattutto questo splendido strumento che è il basso elettrico bene grazie se hai altre richieste qualcuno ha altre richieste le scrivi qua sotto nei commenti anche se piacciono questi tipi di video fatemelo sapere grazie ciao a presto